ma perchè di.. perchè perdi la vita? eh perchè ogni volta che colpisci un oggetto perdi vita eh no è la tua roba colpisci tutto la roba ma tu mi hai visto un uomo così no no io non so come si è ma no se sei su hunter sei.. no non hai visto cazzo credito no 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 ma come si spara scusi non no si no 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 nooo, non esce dalla porta, cazzo, aspetta, Kenny, Kenny, devi darmi più tempo, Kenny, devi darmi più tempo, Kenny, 2, 1, nooo, ma devi un aggetto che mi devo, non è giusto, non è giusto, non è giusto, i mobili non escono dalle porte, cazzo, non è giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto, ti do un indigno, era un po' girato di palla, adesso mi nascondo nel mio posto segreto, Kenny, 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 merda, sono morto, merda, sono morto, merda, sono morto, oh, cazzo, oh, hai vinto, oh, non mi doverai mai, oh, 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 oh vanno 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 Ma sei imbecilo allora, scusa. Mi dovevo muovere prima, nooo, dammi la rimini, città. Sì. Sì, fino a qui? Sì, fino a qui? Sì, fino a qui? Quanto è passato, non è venuto? Ma no, se ti sei nascosto dietro è impossibile Non mi sa, non ho scopo lì dietro Non mi sa, non mi sa, non mi sa Non mi sa, non mi sa Non mi sa, non mi sa, non mi sa Non mi sa, non mi sa Oh my god